Le reazioni degli altri partiti alla vittoria di Renzi si intrecciano con il dibattito sulla legge elettorale. Sul suo blog Beppe Grillo va all'attacco delle primarie e scrive viva il voto online. Sentiamo Bruno Luverà. Freddezza e scetticismo sullo strumento e sul risultato delle primarie dai 5 stelle. Dopo che Grillo sul blog ha contrapposto le primarie sul web, figlia della modernità, a quelle dei gazebo, frutto dei partiti vecchi, novecenteschi, Luigi Di Maio evidenzia come gli italiani volevano andare alle elezioni per eleggere un nuovo Parlamento oltre cinque mesi fa. Quello sarebbe stato l'unico vero trionfo della democrazia. Il Movimento 5 Stelle vuole andare al voto il prima possibile. Sono loro che hanno fatto delle leggi elettorali incostituzionali. Noi siamo disposti a dialogare in Parlamento perché è intollerabile che il popolo italiano non abbia uno strumento per esprimersi.